Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, non è il primo video di giornata, infatti le pagelle sono già uscite, sono uscite questa mattina, se non l'avete ancora vista vi invito a recuperarle, trovate il link qui sopra nelle schede, tra le altre cose se ancora non siete iscritti al canale fatelo assolutamente, lasciate un mi piace e un commento a tutti questi contenuti perché ogni giorno 1, 2, 3 video a seconda di quante cose ci sono da dire, li trovate all'interno del mio canale youtube. Grazie mille, dato che sto vedendo che tante persone che guardano i video poi non sono iscritte, è sempre meglio ribadirlo. Allora, voglio cercare di fare un mischione oggi, un fritto misto, dato che soltanto la live reaction non sarebbe stata particolarmente utile per quanto mi riguarda in questo momento storico per la Juventus e quindi voglio parlare sia della sentenza di ieri, mettervi una piccola clip della live reaction con il gol segnato, il gol subito e la reazione finale di gioia assoluta, quindi veramente parliamo di un minuto, per poi parlare della partita e dire alcune cose che non sono ancora state dette o rimarcare cose che avevo già citato nel post partita di ieri sera e nelle pagelle di questa mattina. Intanto, Nedved, il ricorso è stato accolto, quello di Agnelli, Paratici e Crubini arriva bene, invece sono stati rigettati. Tra le altre cose, Paratici questa mattina si è separato dal Tottenham, dato che era stato inibito, stava aspettando di capire cosa sarebbe accaduto poi con questo ricorso, e quindi Paratici e il Tottenham per il momento si salutano in attesa di vedere cosa succederà e arriva bene comunque, è ancora all'interno di tutta questa situazione, anche se è stato alla Juventus per poco, è approvato il bilancio del 2021, probabilmente, dato che arriva bene, è stato veramente pochi mesi alla Juventus e qua bisognerà capire perché su Nedved il ricorso è stato accolto, perché invece sugli altri il ricorso è stato rigettato, sicuramente il fatto che Nedved si sia tirato fuori da questa cosa e invece arriva bene e si è ancora dentro, fa un po' sorridere dato che Nedved è stato alla Juventus per veramente tanti anni contro i pochi mesi di arriva bene e quindi sarà essenziale leggere le motivazioni della sentenza e capire perché poi si è arrivati a decidere per l'annullamento con rinvio e appunto le posizioni di questi ex tesserati della Juventus. Tra l'altro mi sono ascoltato questa mattina l'avvocato Paco Donofrio su Juventus che ieri ha fatto una disamina abbastanza importante, voglio rubare le sue parole per cercare di spiegare in pochi minuti, parole povere, comprensibili anche a noi comuni mortali che non viviamo di diritto, quello che accadrà in questo momento alla Juventus, dato che credo che per il tifoso sia molto importante sentirsi dire le cose come stanno molto terra a terra. E quindi Paco Donofrio dice il CONI conferma che ci siano state irregolarità sui dirigenti, infatti come pochi minuti fa abbiamo sottolineato il ricorso è stato accolto soltanto per Nedved, invece è stato rigettato per quegli altri. Allo stesso tempo il CONI annullando la penalizzazione va a sollecitare, va a sottolineare come forse invece per la Juventus non ci sia stata necessità di illecito. Quindi il dirigente sì, la Juventus no. E per qualcuno qua, ecco, qualcuno qui potrebbe iniziare a impastire e dire ma come il dirigente della Juventus forma la Juventus e quindi anche la Juventus è colpevole. Ci arriviamo perché appunto per capire questo dovremmo aspettare le motivazioni della sentenza che dovrebbero uscire da qui a 15 giorni. Si spera che si diano una mossa, si spera di poter alleggere il prima possibile dato che siamo al 21 d'aprile e come diceva Torsello la giustizia sportiva deve essere celere anche per rispetto nei confronti dei tifosi e perché i mercati vanno avanti, i campionati vanno avanti, quindi deve essere celere e quindi bisogna accelerare in questo momento dato che siamo al termine della stagione. Ora aspettiamo appunto le motivazioni ma le strade sono due. Rimodulazione della penalizzazione. Se sarà ancora articolo 4 e vediamo perché comunque il procuratore l'altro giorno del CONI dello Sport aveva parlato dell'articolo 4 ma era stato un po' sibillino, non si era capito se voleva intendere che l'articolo 4 proprio non doveva essere all'interno di questa sentenza e quindi era da accantonare e quindi la Juventus aveva completamente ragione. Forse in questo caso però si sarebbe andati verso semplicemente l'annullamento senza rinvio oppure si voleva andare in quella direzione e non tutti erano d'accordo oppure semplicemente si sono detti ragazzi è una situazione troppo ingombrante non possiamo permetterci di metterci le mani, facciamo in modo che decidano alla Corte Federale d'Appello tra l'altro la cosa che fa ridere è che adesso dovrà essere formata una nuova Corte Federale d'Appello con degli altri giudici spiegava Paco Donofrio che non erano stati ritenuti pronti, utili, indispensabili quindi giusti per la prima sentenza invece ora ne andrà formata una seconda con tra virgolette quelli che in prima battuta erano stati scartati quindi vedremo anche qua come reagiranno di fronte a questa tra virgolette ingiustizia però bisognerà anche passare da questa cosa qui. Quindi rimodulazione della penalizzazione se sarà presente l'articolo 4 e questo sarà il più grande nodo da quant'è che vi parlo di questo discorso dell'articolo 4 contro l'articolo 31 ormai è mesi 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 siamo ancora qui a dire vediamo se sarà effettivamente così se invece ci sarà l'articolo 31 piuttosto che l'articolo 4 se anche il CONI avrà ritenuto che l'articolo 4 è stato inserito forzando un po' la mano ci sarà un'ammenda, una multa come previsto dall'articolo 31 infatti l'articolo 31 parla di responsabilità dei dirigenti non di errori della società quindi secondo Paco Donofrio tra le altre cose è probabile che si vada in questa direzione la società annullamento con rinvio, pensateci voi però i dirigenti, ecco, da parte dei dirigenti è stato affermato che c'è stata qualche irregolarità come previsto dall'articolo 31 quindi l'articolo 31 poi va a punire dirigenti e va a punire semplicemente la società con una multa, con un'ammenda tutto questo ad oggi possiamo soltanto ipotizzarlo possiamo soltanto aspettare che scanno le motivazioni e capire di conseguenza ma allo stesso tempo anche cercare di immaginare come andrà a livello temporale perché ora leggo tifosi delle altre squadre che parlano di campionato falsato ieri sera sentivo Tiago Pinto della Roma che diceva abbiamo giocato tre mesi con una classifica falsata Murigno che dice siamo in Italia io le capisco queste cose, io le capisco queste cose perché adesso tutti, davvero tutti oggi parlano di campionato falsato e ragazzi è così, è così è inutile girarci intorno, è inutile voler fare i buon samaritani il campionato è stato falsato che tu la guardi dalla posizione della Juve che tu la guardi dalla posizione delle altre che vogliono andare in Champions è stato falsato hanno ragione tutti a dire che è stato falsato non per i punti ridati alla Juve non per i punti ridati alla Juve ma per le tempistiche per i punti tolti alla Juve all'interno così del campionato a caso, a casissimo ne vogliono 9, ne danno 15 e poi vediamo e poi immaginiamo di capire poi se vuoi fai ricorso e poi il ricorso lo annulliamo però con un altro rinvio capite bene che stiamo parlando di qualcosa di terrificante stiamo parlando di un aborto è una parola forte, perdonatemi un aborto a quello che dovrebbe essere un principio di continuità sportiva perché questa non l'abbiamo avuta e quindi c'ha ragione le squadre che lottano per la Champions oggi a parlare di campionato falsato ma non è falsato da oggi è questo che deve entrare nella testa perché Tiago Pinto ha ragione a dire si è giocati tre mesi con una classifica falsata ma mica solo loro noi ci siamo anche presi la botta psicologica della penalizzazione e abbiamo giocato mesi e mesi e mesi dove c'era stato tolto quello che c'eravamo conquistati e dove tuttora nessuno è in grado di decidere se era giusto oppure no per un cavillo giuridico per capire se è stato utilizzato un articolo piuttosto che un altro per capire se è stato forzato oppure no l'utilizzo di un articolo che parla di slealtà sportiva di una società di calcio perché come vi ho spiegato adesso un conto è dire i dirigenti sono colpevoli un conto è dire è colpevole la Juventus e qui fa tutta la differenza del mondo perché è quello che diciamo dall'inizio se io vengo accusato di aver truccato tra virgolette il bilancio quindi alterazione di principi contabili non posso essere punito con un articolo che parla di tutt'altro c'è quell'articolo sul codice di giustizia sportiva c'è quella punizione che è un'ammenda più una punizione per i dirigenti che vengono inibiti allontanati bla 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 questo è quello che è accaduto alla Juve? sì questo è il capo d'accusa la Juventus è andata ad alterare i conti è andata ad alterare i bilanci per fare bene c'è l'articolo 31 è lì quindi aspettiamo le motivazioni aspettiamo di capire se ci sarà l'articolo 4 ora il rischio è che si possa andare anche oltre il campionato oltre il campionato che magari la penalizzazione possa chissà magari anche intaccare la prossima stagione della Juve così andiamo a rovinarne due quella in corso dove magari poi non ti tolgono i punti perché te li tolgono nella prossima però intanto te ti sei giocato dei mesi con dei punti di penalizzazione che magari non ti aspettavano nemmeno il campionato è stato falsato ripeto inutile girarci in turno meno male ma meno male che quest'anno il Napoli è una squadra che era irraggiungibile per tutti e non venite mai a dire ma magari senza quei punti di penalizzazione la Juve no questo non è assolutamente vero perché l'evento si aveva difficoltà anche prima della penalizzazione era lontanissima dal Napoli mai avrebbe raggiunto questo Napoli quindi meno male che dal punto di vista del vincitore della Serie A questa roba non viene toccata ma tutte le squadre che sono in lotta per una posizione Champions una posizione UEFA che possa essere anche l'Europa League che possa essere la Conference hanno ragione a lamentarsi hanno ragione perché il campionato è stato falsato ma bisognava lamentarsi mesi fa lamentarsi oggi è troppo facile c'era lamentarsi mesi fa niente ragazzi vi lascio una piccola clip della mia live reaction ai momenti salienti di Sporting Lisbono a Juventus e poi iniziamo a parlare anche della partita eccola qua eh ma l'avevano detto l'altro giorno ragazzi l'avevano detto l'altro giorno passa il Siviglia 100% e vince l'Europa League Marcao Marcao ci elimina uh Rabiot yes su calcio d'angolo dopo 8 minuti ancora dire Rabiot grande Adrienne mannaggia il palo dello Sporting e poi il rigore da una rimessa con le mani ma dove sei Aleksandro ma dove sei centrale cazzo centrale cazzo riaperta 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 che disattenzione di merda da una rimessa con le mani Aleksandro si è fatto saltare due volte è finita non so come ma è finita andiamo in semifinale ci andiamo in semifinale non so come non so veramente come non ne ho idea ce l'abbiamo fatta allora ci ragionavo stamattina a freddo non riesco veramente a darmi una spiegazione a livello calcistico di come la Juventus possa aver superato lo Sporting Lisbono a questo quarto di finale praticamente senza mai tirare in porta perché a parte il gol di Gatti a parte il gol di Rabiot che nascono comunque su due mischie la Juventus si è fatto poco e niente forse più niente che poco e quindi calcisticamente ragionando sulle due partite faccio veramente fatica fatica a comprendere come poi la Juve si è riuscita a portarsi avanti passa tutto anche dalle parate di Perin passa tutto anche dall'imprecisione degli attaccanti dello Sporting sotto porta che hanno avuto delle difficoltà a trovare l'impatto con la porta anche magari sguarnita mi viene in mente il loro capitano ieri sera in quell'occasione colossale che si è divorata quindi siccome siamo stati molto fortunati di arrivare in semifinale credo che non sia una vergogna dirlo ma semplicemente un fatto che è accaduto è semplicemente un'analisi concreta lucida e sincera della realtà credo anche che in questo momento la Juventus sia la squadra più forte all'interno dell'Europa League e per questo sogno di vincere l'Europa League e per questo mi piacerebbe poter alzare l'Europa League per questo credo che la Juve possa alzare l'Europa League perché la rosa più forte ma attenzione la United ieri è uscito e la rosa della United è decisamente più forte rispetto a quello del Sevilla la differenza l'ha fatta il campo dove il Sevilla comunque il Liga Spagnola sta facendo fatica ma quello non conta niente e lo abbiamo visto anche l'altra sera tra Milano e Napoli dove il Milan ha tantissimi punti meno rispetto al Napoli ma non conta niente il Milan è stato bravo a sfruttare quelle che sono i suoi punti di forza a minimizzare i suoi punti deboli a passare il turno io sto leggendo ancora che Allegri fa sempre lo stesso tipo di calcio di difese contropiede di difese catenaccio e per questo la Juve vince ma io ragazzi io sono qui a dirvi che magari magari perché questa non è una lettura giusta della realtà non è una lettura giusta del calcio che sta proponendo la Juve in questa stagione la Juventus non fa difese contropiede la Juventus fa difesa le ripartenze per la Juventus non sono praticamente mai sfruttate correttamente io pagherei oro per vedere la Juventus sfruttare e gestire le ripartenze come ha fatto il Milan come fa il Milan come il Milan l'anno scorso ha fatto per vincere lo scuento e come il Milan quest'anno ha fatto per eliminare il Napoli dalla Champions pagherei oro perché non importa difendersi basso non è quello il problema il problema è che quando poi difendi basso devi essere anche in grado di ripartire per portare sulla palla invece noi quando abbiamo la palla tra i piedi siamo sempre in difficoltà perché non abbiamo idea di come sfruttarle ogni azione è indipendente ogni azione nuova ogni azione non è per nulla correlata a quella precedente e su queste cose bisogna lavorare e qui passa per forza di cose dall'allenatore ma l'abbiamo visto anche l'anno scorso con il Villareal la Juventus era più scarsa al Villareal? no decisamente no assolutamente no l'abbiamo visto in Champions quest'anno la Juventus era più scarsa del Benfica a livello di Rosa? no assolutamente no addirittura dal Maccabi no assolutamente no era più scarsa probabilmente del PSG a livello di Rosa e poi sul campo il PSG non si è rivelato niente di che come non si è rivelata niente di che si è rivelato tanto il Benfica sul campo nel girone l'abbiamo visto banalmente negli ultimi due campionati il Milan l'anno scorso più forte della Juve? per me no il Napoli quest'anno più forte della Juve? per me no a livello di nomi assolutamente no e quindi queste cose passano dal campo siamo arrivati praticamente alla fine della seconda stagione targata Massimiliano Allegri al suo ritorno in panchina io lo sapete l'anno scorso vi ho sempre detto io un anno lo do tranquillamente e credo che sia giusto dare anche un secondo per cercare di dare continuità ma questa continuità non ha portato a nessuna parte ad oggi io non vedo dei grandi miglioramenti nella Juventus da inizio anno c'è stato un miglioramento netto secondo me e l'abbiamo sottolineato dentro la stagione in mezzo alla stagione poco prima del mondiale e dopo il mondiale non subito a gennaio ma a febbraio tra marzo e aprile invece vedo un netto passo indietro da parte della Juve un netto passo indietro e credo che il culmine sia stato appunto quest'andata di ritorno con lo Sporting se aggiungiamo che la Juve Roma Lazio Sassolo l'ultima età trasferta in seriale ha pure perse e se aggiungiamo che in Coppa Italia con l'Inter non si è riuscita a portare a casa il risultato all'interno di una partita comunque brutta anche da parte dell'Inter brutta anche da parte dell'Inter certo l'episodio di Bremer il fallo di mano di Bremer il rigore di Lukaku ma l'Inter non ha fatto una gran partita e la Juventus non ne ha approfittato ora siamo in semifinale di Coppa Italia siamo in semifinale di Europa League abbiamo già vinto l'andata alla semifinale di Coppa Italia però poi la finale è una partita secca la finale è una partita secca in cui può succedere qualsiasi cosa gli episodi possono andare in una direzione piuttosto che un'altra e nelle ultime due partite europee secondo me gli episodi sono andati fortemente a favore della Juve se poi le cose non vanno come devono andare in finale c'è poco da lamentarsi bisognerebbe cercare di migliorare adesso dato che ce n'è la possibilità abbiamo ancora del tempo prima di arrivare eventualmente a una finale italiana eventualmente a una finale europea c'è tempo per farlo però bisogna farlo davvero bisogna farlo davvero perché il tempo ne è già passato a sufficienza un abbraccio ragazzi ci vediamo presto con un nuovo contenuto